E' oggi l'ora della resa dei conti, è oggi il momento di spiccare il volo per Ottavia ed Aurelio, padroni di casa capolisti a quota 58 punti seguiti ad una sola lunghezza dalla Dispoli, terzo proprio l'Aurelio che con una vittoria potrebbe incredibilmente balzare in testa a questo strepitoso ed incerto girone A degli allievi regionali fascia B. Gli undici effettivi con i quali scende in campo l'Ottavia, Capitani in porta, Ciampi, Perelli, Libaldi, Sforza, Scrocca, Ridolfi, Maurizzi, Gargani, Marino e Iozzi. A disposizione di Mister, Ciambella vanno d'Andrea, Valencia, Polidori, Sellani, Cocipcio, Salvi e Procario. Risponde l'Aurelio con Varnozzi tra i pali, Di Carlo, Bardella, Aragosa, Dentale, Forte, Barani, Nicolai, Schinella, Mangionami e Randine. Contrastato da Ciampi, deve uscire, deve uscire, attenzione, lo fa con secondo di ritardo, Capitani. Il cross di Ridolfi, il colpo di testa di un difensore a spazzare la rigore, Marino, Marino il destro, il pallone viene deviato e poi c'è il grandissimo intervento di Varnozzi, colpo di Reni del numero uno. Palla verso Gargani, si fa vedere Marino dalle sue parti, Gargani, vince il ripallo, Gargani! Gargani, 1-0 per l'Ottavia. Il lancio lungo ha trovato il numero nove di Ciambella, pronto all'appuntamento con il gol, anticipo secco nei confronti di un difensore avversario, non esce Varnozzi. Allora Gargani è bravissimo a mettere il piatto destro, pallone che si insacca alla sinistra del portiere avversario. Ottavia 1, Aurelio 0, è un gol pesantissimo questo dei padroni di casa. Dove sono appostati tutti i suoi compagni, eccolo qui, il cross, l'uscita di Capitani, il pallone rimane lì, attenzione, c'è un tiro da parte di Mangionami, in ottimo stile ma non fortunato. I compagni appostati sul secondo palo, Forte prova direttamente il tiro, traversa, il pallone resta lì e poi il pallone clamorosamente finisce fuori. Era tutto buono, il calcio di munizione è battuto da Forte, il pallone ha impattato sulla traversa dopo la deviazione di Capitani, è arrivato Varani che da pochissimi passi ha sparato fuori clamorosamente, si sono fermati, lunga il pallone e va, Ridolfi, forte, davanti a lui, passa Ridolfi, limite dell'area, Ridolfi, il destro, l'intervento incredibile da parte di Vannozzi con la gamba di richiamo, un intervento molto molto bello. Il pallone Nicolai è forte, passa forte, passa Nicolai, cioè la conclusione, mamma mia, bellissima da parte di Randine, sembrava dentro. Il colpo di testa di Maurizio, attenzione, c'è lanciato un giocatore avversario che è Procario, attenzione, atterrato a pochi metri dall'area di rigore e c'è l'espulsione di Dentale, ultimo uomo, eccolo qui, il triplice fischio del signor Ancora di Roma 1 che degreda dunque la fine di questo incontro, la venticinquesima giornata del campionato allievi regionali fascia B, scontro al vertice, Ottavia 1, Aurelio 0.